Da alcune settimane l'autorità portuale di Ravenna, in attesa della nomina del nuovo presidente dopo la conclusione dell'attività di Gagliano Di Marco, è guidata dal commissario straordinario il contramiraglio Giuseppe Meli e si è insediato ufficialmente in questi giorni il comitato che si è subito messo al lavoro ed ha approvato il bilancio consuntivo 2015. L'ente prevede poi di dare corso ad una fitta serie di interventi che vanno dalle manutenzioni ordinarie a quelle straordinarie, dentro cui sono compresi il completamento di tratti di strade di banchine, il ripristino di alcune protezioni di sponda, la sistemazione di piazzali, la realizzazione di pontili di attracco per mezzi nautici, la riprofilatura del fondale al termine al crociere, tanto per citarne soltanto alcuni. In merito al progetto hub portuale di Ravenna il commissario ha sottolineato di avere in previsione incontri con rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, oltre ad ARPA regionale per cercare di individuare la strada da percorrere per garantire l'avvio delle operazioni di escavo dei fondali del canale Candiano. Meli ha anche anticipato al comitato che l'autorità portuale di Ravenna intende rientrare a far parte dell'Associazione dei Porti Italiani a sopporti, visto che i problemi del porto di Ravenna sono in questo momento gli stessi degli altri scali italiani ed è importante avere un organismo che possa rappresentare i problemi in forma collettiva.